per una minuta. Come è possibile, Presidente, pensare un'Europa verde e sostenibile senza tener conto che il 45% dell'intero territorio europeo è gestito da agricoltori? Come è possibile non tener conto dei quasi 30 milioni di persone che lavorano su questo territorio? Lavoratori che dobbiamo tutelare e proteggere. Prima di occuparci della nuova occupazione, dobbiamo difendere l'occupazione esistente. Ricordo che l'agricoltura fornisce una serie di servizi essenziali, cibo, biodiversità, paesaggio, ambiente, funzioni svolte per la vitalità sociale ed economica dei territori rurali. Anche la presidenza spagnola ha ribadito con forza la necessità di avere una politica agricola comune forte. Sono dunque preoccupato, Presidente, per questa gravissima mancanza che spero il Parlamento possa correggere. Grazie. 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 Grazie.